Messa a punto del Fantic, messa a punto del Fantic, messa a punto del Fantic alla mattina, ma si può, ma veramente, ma come cazzo state? Cioè, l'altra volta, vabbè, la frizione dico va bene, ma cazzo, ma questo col piccone, cioè veramente, oh. D'altronde, sono attrezzi di precisione. Eh, eh, con quelle moto qua devi usare per fortuna. No, c'è acqua, c'è acqua. Cazzo, c'ha le sostenzioni, sono una figata. Che metto, ragazzi. Una bella moto. Cazzo, 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 cazzo. Cazzo si spegne come la mia. Seconda si è spenta, eh. No, no, no Non spegnerla, comunque esagerata, bellissima, ha le sospensioni anche sono uno spettacolo, lì perché ero in seconda io l'ho tirata troppo corta, però figaro è veramente spettacolare, bel mezzo tanto, il fatto è bella, bella davvero. Ritorni in vetta, è bella davvero. Andiamo in là? Andiamo. Buonga una bella moto, bella cazzo. Capo che potremmo la far trovare.